Buongiorno a tutti, sono Davide Marone, benvenuti al consueto appuntamento con l'analisi live del mercato dedicata all'apertura delle contrattazioni in Europa. Ieri parlavamo dei market mover in arrivo che potevano portare con sé buona volatilità sui mercati e diciamo che con casi piuttosto specifici questa è arrivata. Ovviamente non si può non partire dal cable, qui vedete il grafico di Sterlina Dollar al 4 ore, stamattina si stanno acquendo le vendite e appunto vendite che sono conseguite rispetto ai dati che abbiamo osservato ieri, i dati sulla disoccupazione per la verità non troppo lontani dalle attese, anzi quelli relativi alla variazione dei sussidi di disoccupazione e al tasso di disoccupazione sono stati perfettamente in linea con le attese, hanno pesato, ha pesato l'indice dei salari medi che se ricorderete ieri proprio mettevamo in guardia, sul quale ieri mettevamo in guardia all'interno del nostro Morning Advisor e anche con me in questa sede. A questo ha seguito poi il report sull'inflazione e le dichiarazioni di Carney, dichiarazioni direi in qualche modo ancora piuttosto dovish, nel senso di una situazione che mostra delle incertezze dal punto di vista del quadro economico complessivo del Regno Unito e con quindi le famose aspettative sui tassi che a giugno avevano in qualche modo indotto il mercato a ritenere che il rialzo potesse essere precedente rispetto alle tempistiche paventate, un dietro fronte che ha portato, l'abbiamo detto, ad ampie vendite di sterlina e che anche ieri non è stato smentito, per cui una sterlina ancora ben vista a ribasso, ieri parlavamo di come delle chiusure della candela giornaliera ad ampio range, chiusure coincidenti con i minimi, ci dessero ancora un segnale short. E vedete come stiamo andando a proseguire al ribasso verso un alto grande livello di importanza, badate già ieri la rottura di 1.67 come sia stata significativa in quanto rappresentava il punto di swing di fine maggio, inizio giugno e che poi aveva dato un nuovo fiato al rally fino a 1.72, quindi gran livello già quello raggiunto, violato, vedete proprio qui candela ad ampio range, chiusura sui punti di minimo e ci avviciniamo verso l'1.66.55 laddove vediamo il transito delle medie mobili sia esponenziale che semplice, qui sul grafico daily è un importante punto statico, vedete minimi e massimi precedenti, quindi 1.66.55 che ora appare un obiettivo molto verosimile. Dovremo studiare, lo dicevo anche ieri, ma con molta cautela la potenziale divergenza regolare e rialzista qui sul daily è chiaramente la potenziale tenuta di quest'area, superata la quale potrebbe indurre pesanti vendite che hanno come 65.70 il punto ideale e come 66.10 il punto intermedio, chiaramente ripeto paventiamo un eventuale scenario se non di inversione ma quantomeno di importante ritracciamento ma al momento ancora questo non ci dà dei segnali evidenti, quindi è solo un'idea, noi dobbiamo tradare quello che vediamo e per il momento, non ultimo, poche ore fa vedete i segnali che ci sono, sono ancora assolutamente segnali di vendita. Domani avremo il PIL UK che potrà acquire lo scenario o appunto portare a quei ritracciamenti. Stamattina scrivevo come sul grafico orario si potessero studiare dei pullback in area 67, 66 e 90, in realtà il mercato è partito a ribasso prima, lo avete visto, perché non è andato oltre 66, 85 e partito a ribasso prima, nuovi minimi. Chiaramente adesso risulta un po' difficile saltare dentro rispetto a questa operazione in vendita, valutiamo un raggiungimento dei target e poi nel breve capiremo come muoverci. Io ho idea che i livelli possano essere sporcati e poi si possa rientrare in attesa poi dei dati di domani, piuttosto che paventare oggi degli appesantimenti importanti in senso ribassista. Comunque andiamo verso il target e ripeto, lì poi anche magari seguendolo sul forum capiremo il da farsi anche nel breve. Però molto tecnico il cable, ieri parlavamo dell'area di 1,68 e 10, lo ricorderete come area di confluenza grafica propedeutica ad eventuali nuove partenze in senso ribassista, un cable molto tecnico che ha proprio rispettato salvo lo spike tra le 10 e mezza e le 11 e mezza che in qualche modo a rialzo poteva indurre un errore, verosimilmente è andato a colpire degli stop loss, degli ordini in vendita, però poi il percorso è stato molto lineare perché poi sono partite delle vendite proprio su questa confluenza grafica, quindi un cable tecnico che ci ha ben suggerito per la verità da qualche settimana degli ottimi punti di vendita. Torniamo all'euro che ieri è stato molto volatile, nel pomeriggio in seguito ai dati sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti, appena negativi, è partito un forte rally dell'euro dollaro che vedete ha messo a segno credo nel giro di mezz'ora, non più di un'ora, un rally da 1,33 e mezzo, addirittura superare la soglia di 1,34, vedete si è arrestato qui a 1,34 e 10, poi clamoroso e repentino dietro fronte anch'esso nel giro di un paio d'ore che lo ha riportato sotto 1,34 e addirittura sotto 1,33 e 75 e a testare uno dei livelli che insomma seguiamo ormai da giorni a 1,33 e 55. Stamattina abbiamo visto le prime vendite conseguenti al dato ancora una volta non positivo sul PIL tedesco, PIL tedesco che su base trimestrale ha fatto registrare una flessione ancora di un decimo di punto percentuale in territorio negativo, quindi da attese di meno 0,1 a di fatto un dato di meno 0,2 e soprattutto un dato precedente rivisto negativo a 0,7, mentre su base annuale il dato è praticamente dimezzato dall'1,5 del consensus allo 0,8, quindi non buone notizie, in realtà poi non abbiamo visto l'acquirsi di vendite importanti se non di breve, vedete sostanzialmente qui l'1,33 e 55 ha tenuto anche se poteva indurre dei primi posizionamenti in vendita, vedete un euro dollaro che per quanto ci sforziamo di ricercare dei punti tecnici precisi nel breve è tutt'altro che facile, guardate il movimento di ieri come è stato volatile, come abbia potuto salvo prese di profitto molto rapide indurre in errore, e fondamentalmente il quadro resta un po' il medesimo, sul daily dicevamo il fallimento di nuovi punti di minimo, la possibilità di assistere a dei pattern di doppio se non triplo minimo, minimo di breve termine, ci lasciava e tuttora ci lascia in qualche modo aperti alla possibilità di eventuali rialzi che devono passare naturalmente dal nuovo superamento di 1,34 e 1,34 e 20 però chiaramente adesso lo scenario contempla ancora i classici trigger point, quindi ancora una volta ci muoviamo secondo questi livelli 33,75, 33,55, 34 e chiaramente i punti di minimo, è chiaro che in una dinamica così confusa anche i movimenti di eventuale violazione per quanto di breve vanno in qualche modo confermati dagli eventuali pullback, quello che per esempio c'è stato direi un'oretta fa, non ha trovato conferme di test e ripartenza del prezzo, siamo rientrati in range, ora l'idea che possiamo ripuntare a 1,33 e 75 può tranquillamente sussistere, magari seguendo anche le indicazioni dell'oscillatore stocastico che in una fase simile laterale può in qualche modo darci un elemento in più, vedete le medie mobili sono al momento anche esse piuttosto inservibili, per cui guardiamo all'area della resistenza, qui media 100, pivoteli, punti statici attorno 1,33 e 75, vi ricordo che però tra poco più di un'ora vi sarà l'inflazione dell'Eurozona, un dato che io tenderei in qualche modo a sminuire perché ho qualche difficoltà a contemplare dei ribassi ulteriori rispetto al dato già abbastanza deprimente, l'ultima release dello 0,4%, il mercato prezza delle aspettative in relazione a quello che l'ABC farà a partire da settembre dove tecnicamente il piano di TL e TRO potrà avere inizio e dove chiaramente si attenderanno dei chiarimenti, se non implementazioni clamorose di un'eventuale quantità di easing all'europea e quindi è evidente che un dato salvo, ripeto, ancora clamorosi discostamenti dal nostro 0,4% su base annuale non avrà un impatto così significativo per quello che mi riguarda sull'Euro, per cui tenderei in qualche modo a sminuirlo fermo restando che se operiamo intraday dobbiamo avere gli occhi incollati al calendario economico e dovremo comunque seguire il grafico proprio sulla pubblicazione della release. Però le indicazioni, ripeto ragazzi, sono ancora queste, non sono particolarmente entusiasmanti ma nel trading bisogna privilegiare le cose chiare, evidenti, semplici e naturalmente usare la massima prudenza piuttosto che avere in qualche modo quelle euforie da grandi movimenti. L'euro-dollaro in questo momento è un mercato che ci sta offrendo questo tipo di scenario e a questo dobbiamo adattarci, ripeto, con questi trigger point che sono pressoché equidistanti che comunque con un money management conservativo ci possono anche permettere di andare a profitto sulle operazioni di breve. Per quello che riguarda la Royenne abbiamo visto una buona prosecuzione a rialzo, siamo in uno scenario che è andato a target, prima con raggiungimento di 102,35, poi quello di 52,55, adesso stiamo assistendo a delle inversioni di breve, quindi non è perfettamente lineare, però guardate sul grafico orario come siamo al test importante proprio di area 102,45, 102,35 e questa può essere un'area di supporto che ci può far contemplare dei nuovi acquisti di dollaro-yen, per cui questo può essere il primo focus, naturalmente gli stop devono essere abbastanza, diciamo, relativamente vicini, quindi contemplerei degli eventuali stop appena sotto l'area di 102,35 per i più conservativi sotto 102,25 per lavorare a rialzo con il target di 102,75. Naturalmente, attenzione perché qui è ancora, secondo me, prematura, abbiamo visto, vedete, una candela d'ampio range alla fiammata dell'ora scorsa con chiusura qui vicino ai punti di minimo, ho idea che le estensioni possano arrivare a 35 prima di eventuali ripartenze, per cui manteniamo una certa prudenza negli acquisti, però, diciamo, le conferme in senso rialzista, diciamo che a livello di price action, vedete, hanno più elementi di conferma, per cui qui è evidenziato tutta una sequenza abbastanza regolare di minimi crescenti, attenzione a quest'area per delle ripartenze. Fermo restando anche qui dei target piuttosto contenuti, ahimè, è questo il mercato anche per il dollaro yen. L'australiano ieri ci ha dato dei buoni segnali in acquisto, dicevo, sul minimo di breve termine del grafico daily, ha fatto una buona fiammata che è andata qui a bloccarsi sulla media 100 periodi, sul 4 ore, poi dei ritorni e delle ripartenze proprio a partire da questa notte, qui sulla mattinata. Io sono discretamente confidente circa il fatto che l'australiano possa andare, vedete, anche qui sul grafico orario, a riprendere l'area di 93,30 e a tentare degli approfondimenti fino a 93,65, per cui mantengo ancora una view moderatamente rialzista qui sull'australiano, esattamente come andavo a descrivere ieri. Anche qui contemplerei degli stop comunque relativamente vicini, non troppo al di sotto di aria 0,92 e tre quarti, per un buon rapporto rischio rendimento con primo target a 93,30 e a 93,65. Se il nostro stop venisse triggerato, è chiaro che dovremmo riguardare i punti di minimo, anche qui ingressi veloci sotto tre quarti, ma più conservativi sotto 60 per andare a riprendere i punti di minimo, però ripeto, anche il daily qualche discreta conferma in sensore alzista ce l'ha data. Idem sul Kiwi, dove anche qui sul grafico giornaliero abbiamo questa buona conformazione in sensore alzista che passa ora dal superamento di aria 84 e 85, si vede ancora meglio se scendiamo di time frame, abbiamo tutta questa bellissima aria, ma direi qui anche un livello piuttosto preciso di resistenza tra 84,85 e 84,90, se dovessimo oltrepassarla ho idea che l'obiettivo 85,30 potrebbe essere relativamente facile da raggiungere. Anche qui mi sposto sul grafico orale, vedete la media 21 ha acquisito direzionalità, ha incominciato a lavorare da supporto dinamico, ha messo a segno dei cross rialzisti con la media 100 ed è vicino a fare lo stesso con la media 200 per cui attendiamoci dei potenziali break e degli allunghi come da scenario. Chiaramente anche qui degli stop che possono essere mossi in trailing da aria 84,5, stesso trigger point per delle eventuali operazioni in vendita. Il dollar index che continuiamo a seguire, vedete, ci conferma una dinamica di forza relativa del dollaro che è riuscito ad andare anche al target di cui parliamo da giorni a 570 e ora chiaramente va a porsi, vedete, l'obiettivo del target a 10.600, il 4 ore è molto bello, guardate le confluenze grafiche, cioè quei punti che vedono concomitanza tra livelli statici e soprattutto media mobile 21 periodi, perché qui parliamo di una direzionalità, sul grafico orario e chiaramente questo riguarda anche la media 100 e anche la media 200, ad ogni modo, vedete, questi sono eventuali punti di ritesta attorno a 10.570 per delle eventuali ripartenze del prezzo, quindi io resto ancora confidente circa un rafforzamento del dollar index che può passare dagli scenari ribassisti su euro, cable soprattutto, in parte dollaro e yen, mentre per l'australiano almeno nel breve sarei più confidente circa invece in debolimenti del dollaro americano, quindi un quadro che chiaramente non è prettamente univo, l'abbiamo visto anche ieri, la dinamica dollarocentrica non è stata univo che è anche sincronizzata, perché abbiamo visto dei disalineamenti temporali tra i vari cambi con il dollaro americano, ma sostanzialmente il quadro complessivo ancora ci può far essere confidenti circa nuovi rafforzamenti. Sul daily, vedete, non abbiamo segnali di indebolimento, anzi qui vedete avevamo una gravestone doji, quindi un segnale ribassista con violazione invece ieri dei massimi, per cui questo è un segnale rialzista, secondo me non di poco conto. Monitoriamo per adesso solo la divergenza regolare ribassista con lo stocastico, ma è molto prematura, per cui io guardo innanzitutto prima la pre-section e guardo la potenzialità di mettere a segno, ripeto, nuovi massimi e di guardare l'area di 10.600. clamoroso anche il prezzo del Bund, ancora una volta il 4 ore, ieri se ricorderete seguivamo tantissimo l'area di 149.15 come area decisiva, determinante per contemplare delle vendite o dei eventuali punti di ritesta e ripartenza, le conferme sono arrivate poco dopo, vedete con questa fortissima candela, questa sorta di bearish and gulf, ingorottura di nuovi massimi, assolutamente scenario ancora confermato in senso rialzista e abbiamo raggiunto la famosa soglia dei 150. Vado a portarmi sul grafico orario dove vedete lateralità, tentativi di ribasso però contenuti perfettamente, lo vedete ancora una volta dalla media 100 periodi e ripartenza e ora motivo di credere che, ripeto, ci possano essere delle estensioni, chiaramente qui siamo in territori inesplorati, per cui eventuali punti di ritesto non sono facili o meglio di target non sono facili da paventare, per cui qui restiamo guardando esclusivamente la precession, guardando l'ampiezza delle candele, guardando la chiusura, se possa essere vicino ai minimi o vicino ai massimi e chiaramente contempliamo eventuali ritesti sui massimi precedenti a 149,80, ma qui il quadro tecnico deve restare ancora rialzista, eventualmente studiamo eventuali divergenze per cercare i primi segnali di reversal, questo è una cosa che possiamo fare anche sui time frame di breve. Andiamo invece dunque sull'azionario con il DAX che sul segnale daily dell'altro ieri ci dà ancora le medesime conferme, nonostante i ribassi che abbiamo visto martedì, però abbiamo visto anche delle decise riprese dai supporti a superamento anche di quell'area 9.170-9.180 che ieri guardavamo con attenzione, anche qui i massimi poi per il momento svilitti, ma le riprese levemente a ribasso stanno in qualche modo, le vendite scusate, sono in fase di potenziale, potenziale di riassorbimento, ancora chiaramente importante l'area che va da 160 a 180, perché un'area che consideriamo anche qui da grafico orario, lo vedete, un'area ancora a potenziale di acquisto, sono belle qui anche le confluenze grafiche, guardate le medie, i livelli statici e perfino il livello dinamico qui di questo canale, che per il momento è una correzione, ma che comunque ci presenta dei forti supporti, anche il daily è lì proprio a 170, per cui l'idea di acquisto, il pivò scusate daily a 170, per cui ancora una volta l'idea di acquisto per me è quella che ancora ha senso, naturalmente guardiamo ancora l'area di 250, che qui sul grafico orario è proprio l'area di transito 255, delle medie mobili a 200 periodi, però resto confidente circa i potenziali allunghi ancora di borsa e naturalmente di DAX. Questa l'area è chiaramente invece importante a ribasso, chiaramente ancora 9.085, quindi dei primi punti per 40-50 punti a ribasso qui sono ipotizzabili, naturalmente solo sotto 9.030 tornerebbe un ampio scenario bearish, per cui qui i livelli sono molto chiari, io resterei qui anche considerando l'ottimo rapporto rischio-rendimento in ottica di potenziale acquisto per la verità, già i segnali dal mio punto di vista ci sono, questa è la view che esposo con maggiore probabilità. Ancora una volta guardate come il nostro Fuzzimib non è perfettamente allineato, ancora una volta io calco molto la mano sulle differenze tra gli indici, quando puntualmente l'obiezione è circa il fatto che un indice sale e l'altro no o sale meno, ancora una volta quando compariamo DAX e Fuzzi ricordiamoci delle palesi differenze tra questi due indici, qui il 4 ore ancora contiene bene, molto significativo il posizionamento della media mobile a 21 periodi che è quasi perfetta nella sua funzione di resistenza dinamica, ancora una volta vedete qui abbiamo di fatto dei segnali invalidanti del supporto a 19.400 150-460 punti, per cui qui tecnicamente possiamo essere anche in uno scenario che potrebbe contemplare delle vendite ulteriori fino a raggiungere l'area di 19.200 punti, per cui stiamo attenti, anche qui lavoravamo su una sorta di figura di correzione che qui sembra estrinsecarsi a ribasso, per cui è chiaro che tecnicamente qui il primo segnale in vendita è scattato proprio al cedimento di area 19.460-19.450, al momento il grafico orario ci dà questo tipo di indicazioni, difficilmente troviamo altro, lo so che parlare di scenari opposti su DAX e FUZI può apparire strano, ma ultimamente ho imparato invece a dividere molto e analizzare tecnicamente e freddamente i grafici e vediamo come i disallineamenti siano piuttosto frequenti. Se dovesse esserci un riassorbimento, un ritorno sopra il pivot daily, quindi io ancora una volta prima di 19.500 non mi muoverei a rialzo, allora lì ancora una volta guarderemo all'area di 700, però resterei ancora molto prudente in questo senso. Per quello che riguarda l'S&P invece qui troviamo un ottimo allineamento con il DAX, sono due indici ancora una volta molto simili, attenzione al 4 ore, ad uno scenario di potenziale divergenza che naturalmente è ancora prematuro, guardiamo sempre prima il prezzo, siamo entrati in un'area piuttosto calda, quella che vi dicevo ieri delimitata a ribasso dal 1947 e a rialzo dal 1955, per cui chiaramente sarà cruciale capire come si comporterà il prezzo all'interno di questa fascia di prezzo. Il grafico orario ci sta dando delle buone indicazioni in senso rialzista, guardate anche qui la confluenza grafica proprio in area 47 che ci può suggerire nuovi long, anche qui siamo in discordanza con lo stocastico che pure il suo orario ci mostra divergenza, però la priorità va al prezzo, alle medie mobili, a livelli statici e perché no il pivot daily che è un'indicazione legata esclusivamente al prezzo, per cui prima di cedimenti sotto 45 l'ottica dal mio punto di vista deve essere un'ottica rialzista. Con uno stop, ripeto, che può essere relativamente vicino appena sotto 45 degli eventuali reverse con primi obiettivi in area 36-35, ma per il momento la view resta di questo tipo. Guardiamo sì il petrolio anche, il petrolio che sul daily ci ha fornito un segnale ribassista dal mio punto di vista, per quanto qualcuno di voi ieri andasse a sottolineare la potenzialità di divergenza che per me non è ancora assolutamente attivata, anzi non abbiamo né segnale di prezzo né segnale sullo stocastico, qui anzi intravedo, ripeto, dei pattern di prezzo potenzialmente ribassisti, chiaramente ribassi che io andrei a lavorare esclusivamente in breakout. Vedete qui siamo in lateralità, le medie 200 sul grafico orario e anche la 100 fanno da resistenza dinamica, l'idea di un appiattimento verso i punti di minimo e di prime rotture sotto 97 ci può stare, chiaramente anche sotto 96,5 le rotture potrebbero rivelarsi piuttosto importanti e io ancora sono di questo avviso proprio per come vado a osservare la dinamica di prezzo su punti di minimo e punti di massimo. Ripeto perciò, prima di area 98,5, io qui mi riferisco chiaramente più a uno scenario multi day, prima di 98,5 io non contemplo operazioni long, nel breve una prima idea potrebbe essere lavorare anche qui su rotture di alziste sopra 97 e 65. Va bene, allora sono le 10 in punto, io direi che abbiamo fatto una bella overview su tanti strumenti. Resto con voi qualche minuto per le vostre domande, le vostre osservazioni, naturalmente domani, lo ricordo, gli uffici saranno chiusi per la festività di Ferragosto, dal punto di vista di orari delle contrattazioni sui mercati, naturalmente per il Forex non ci saranno eccezioni, il Forex chiuderà chiaramente venerdì alla solita ora, per quello che riguarda il CFD l'unica eccezione riguarderà l'indice italiano che sarà nella giornata di domani chiuso alle contrattazioni, per il resto tutto procederà come al solito. Intanto l'appuntamento con il morning meeting è chiaramente un appuntamento per lunedì, io però oggi assolutamente sarò come di consueto sul dailyfx.it, quindi sul forum, per continuare con le analisi. Intanto per chi ci salutasse, a chi ci salutasse auguro un buon Ferragosto. Grazie. 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 Grazie.